Vaneke, con i radar ad intercettare le unghie del muro. Muro di monta, Orro risolve tutto l'ise Vaneke. Palla che va a sbucciare il net, e allora Orro a indirettarla per l'ise Vaneke. Parroquiale per Vaneke, money out. Suda Viskiba, Orro a cercare Vaneke, salvataggio di Mocchi de Gennaro, ma non basta. Mervinio Danesi in su, sì, la palla che rischia di scappare via. Bowos prova a fare una furbata, ma l'astuzia, il fosforo lo mette. Soprattutto l'ise Vaneke con questo colpo quasi frenato. Refri Bolmonza, Orro per Vaneke. Invece non stia dicendo ora, il risultato cerca di limare le distanze l'ise Vaneke, 18-14. Cerca il pallonetto Vaneke, ci arriva De Gennaro, ma non ci sono più i giocatrici in moto. Parroquiale poi Orro ad aprire per Vaneke, che rinnega il primo set point. Bowos per Egonu, murata in campo, sì, da l'ise Vaneke. Parroquiale Orro sceglie Vaneke a bersaglio. Parroquiale Orro per Vaneke, potente. Parroquiale Orro dopo la riccia di parrocchiale, ma Vaneke fa il suo. Marialto. Ladovic a scegliere. Lise Vaneke che sbanca così il palaverde di Villorba.